I nostri eroi ora devono affrontare l'ultima prova, l'allestimento carri. Cos'è che manca per finire? Ah, allestire carri! Ah, un gioco da ragazzi! Pronti, voliamo! Ok, io vi seguo. È facile questa cosa? È facile? Per noi è facilissimo. I due incinocchiatori e un gong. Ci va l'imperatrice e l'imperatore della Cina. E davanti tutte le concubine. Imperatrice della Cina, Gualdo Tadino? Da a vedere le concubine, secondo me sono più interessanti. Ma queste concubine le possiamo scegliere? Facciamo un casting per le concubine? Io sono d'accordo. Ma non siamo qua per le concubine. Focalizziamoci sul nostro obiettivo, per favore. Guarda, se tanto vuoi salire, prova se sono il gong. No, no, questa è una cosa che Gianluca poi stamattina si è svegliato e ha detto, quanto mi fate? Sali sul cano e sono il gong. Dai! Eh, tra l'altro sapete che io adesso vado anche in Cina? Sì? Sì, perché hanno creato questi pantaloni energizzanti cinesi. Cosa si chiamano? Ginseng. Vai a suonare! Vai a suonare! Vai, vai, vai! Olè! Oh, eccomi! Guarda, la mazza è lì dietro. No, la mazza è qua! Oh, qua le battute le faccio pure io. Come sono diventata simpatica? Voilà! Sezione! E farei anch'io, mi sa così. Popolo di Gualdo! Che classe! Posso provare anch'io? No! Perché no? Perché non lo saprei mai fare come... Io non farò mai la concubina. Beh, lo spostati, vai. È un peccato, non sai quello che prendi. Mai! Siete pronti? Mai! Sarò molto delicata. Un'altra parte. Scusate, non è finita qui. Perché? Seguitemi, no? Andiamo, andiamo, andiamo! Mi aspetto qua, ciao! Allora, qui che c'è da fare? Immagino che il titolo di questo arlo è Mali Morte, questo è così, no? No, questo è il carro di Gog Magog, qui rappresentiamo tutto il mondo bongolo. Ah, quindi Gengis Khan? Esatto. Non ho capito. Quindi, dobbiamo finire di mettere la terra sopra. Mettere la terra sopra? Oh, via, 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 via! Oh, no, no! Per bene! E come per bene? Così, spargi, spargi, spargi! Oh, che meraviglia! Oh, via, via, via! Oh, vedi? Vedi? Questa terra qui non dov'è viene? Eh, questa è terra umbra. Qui c'è anche la cacca della mucca umbra. Te, te, te. Eh, ma, ragazzo, però titolo! Dai, andiamoci a lavare le mani con la birra. Eh? Andiamo. Ma andrà via la cacca di mucca con la birra. E così, come ogni anno, è arrivato il momento della sfilata del Palio di San Michele Arcangelo, patrono della città. Siamo in diretta che ho spinto la piazza di Guadalino per i giorni del Dore. Una città che per tre giorni si immerge interamente in un'atmosfera medievale, con un palio che si richiama alle antiche giostre equestri. Tutti gli abitanti di Guadalino sono chiamati a partecipare, in costumi originali, sui carri o a cavallo. In un'atmosfera davvero suggestiva. Siamo in diretta che ho spinto la piazza di Guadalino per i giorni del Palio di San Michele Arcangelo. Quindi da le porte di Guadalino abbiamo Maria, Dario e Gianluca. Benvenuti! Con le porte di Guadalino! Con le porte di Guadalino! Grazie a tutti.